80 anni dalla strage nazista a Onna e due giorni di ricordo. Per ricordare quell'11 giugno del 1944, diverse le iniziative a Onna. Sì, infatti 80 anni, due giorni di iniziative, l'11 giugno con una cerimonia più ufficiale, con la Santa Messa e poi la deposizione delle corone. Sarà presente la viceambasciatrice in Italia della Germania, saranno presenti autorità istituzionali, quindi per noi questa è una giornata importante che poi giovedì ricorderemo con una drammatizzazione teatrale che nasce dalle testimonianze dell'epoca. Morirono 17 persone che oggi nel paese sono ricordate con diversi monumenti. Durante la seconda guerra mondiale nel 1944 a Onna, dopo l'armistizio, era stato collocato il reparto di sussistenza per le truppe tedesche che combattevano sulla linea Gustav. I primi di giugno del 1944, alcuni soldati tedeschi requisirono dei cavalli di proprietà delle famiglie Papole e Ludovici, che al comando tedesco ne chiesero la restituzione. Ne nacque una colluttazione tra un soldato e il figlio di una donna, proprietaria di uno dei cavalli. Il giovane fu ferito da un colpo di arma da fuoco, ma riuscì a sfuggire dai tedeschi per rifugiarsi sul Monte Archetto, dove erano nascosti i partigiani. I soldati, per vendicarsi, fermarono prima una diciassettenne, figlia dell'altra famiglia che aveva chiesto la restituzione del cavallo. Fu picchiata, violentata e uccisa, perché non svelò dove si era nascosto il ragazzo. Nei giorni successivi, continua la rappresaglia, i tedeschi radunarono altre persone di Onna, che furono fucilate. Speravano di avere informazioni su quel ragazzo, che non uscirono mai però. Un eccidio che rimase di fatto senza colpevoli. La storia di Onna è molto particolare, perché il terremoto ha poi unito due comunità, quella dell'Aquila e quella tedesca. Questa vicenda del 1944 ha fatto sì che nel post-sisma la Germania venisse qui a Onna, sia l'ambasciata, ma all'epoca venne anche la cancelliera Merkel, per iniziare la rinascita. Tutte le loro promesse sono state mantenute dalla chiesa parrocchiale a casa Onna, alla casa della cultura, e continuano ad esserci vicini e noi ne siamo grati.